Come vedere dove stanno tutti gli screenshot che hai fatto su Steam, quindi in questo caso vai direttamente su questo PC, questo PC, disco locale C, scendi fino a giù fino a trovare programmi per 86, quindi ho Steam installato sul disco locale C dove tengo anche il mio sistema operativo. Vai su programmi per 86, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella Steam, ora vai direttamente nella cartella user data, la cartella con i numeri 838922885, ora andiamo nel 760, vai in remote, vai nel 440, screenshot. Più ovviamente troverai così gli screenshot di un gioco, quindi questo qua è di Team Fortress, altri screenshot, quindi in questo caso quello che devi fare è entrare direttamente nella cartella 760, vai in 760, remote e qua trovi tutte le cartelle dove hai salvato gli screenshot. Quindi in questo caso puoi rinominare così questi numeri, quindi per esempio vado nella cartella 730, trovo così gli screenshot di Counter Strike, quindi al posto di 730 scrivo Counter Strike. Ed ecco qua gli screenshot, li trovi tutti nella cartella 760. Se questo video ti è stato utilissimo su come trovare gli screenshot su Steam, grazie a tutti per questa visione e un piccolo tutorial. Quindi grazie a tutti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.